Rimani? No, non lo so questo. Adesso pensiamo a festeggiare, poi ci sarà tutto il tempo per vedere quello che succederà. Ti facendo sempre il migliore aggristo di genere. Fa piacere, fa enormemente piacere questa cosa, però il lavoro più importante l'abbiamo fatto tutti insieme. Quindi sono contento di aver dato una mano alla squadra, perché questo alla fine è il mio lavoro. Poi il lavoro più grosso l'abbiamo fatto con il gruppo. Senti, la tua parata è come se era un gol. Sì, sono stato fortunato, mi ha un po' colpito, mi sono fatto trovare nel posizionamento giusto, però anche quei frangenti sono stato fortunato e anche un po' bravo a non far entrare il pallone.